Siamo nel verso... no, quarta. Quarto capitolo? Eh, tre, un quarto capitolo di Raptor Dead 4. Sì, diciamo che un saluto da ZigZag, Andrea non saluta mai, come sempre, Andrea è un scostumato, scusate, non saluta, hai completato l'obiettivo pagliacciato, eh? Eh, come avete fatto l'obiettivo? Eh, ho dato 10 conti a un partice, un partice a... Ah, posso, l'ho preso un bagliaccio da San Milo che c'è te la voglia. Io non ho fatto qui, qua. No, lascia, ma non hai la buttana? No, no, non l'ho sperato della... Eh, il muro è femmina! Azzita, Andrea! C'è la tua, azzita, Andrea! C'è la tua, azzita, Andrea! Se la metti, io sono iniziato tutti. Un vecchio, un vecchio. Un vecchio, un vecchio. Un vecchio, un aiuto! A posto, ci sono problemi. Andrea! Eh, Marco! Meno una botta secca qua, che ti fa sognare un obiettivo di blocchi. Io lo so. Non sono da farlo prima che... Probabilmente, dovremmo cacciare tutti questi cadaveri, prima cosa. Wow! Non me lo dà! Con una pala, con una pala, hai la pala? Guarda che su ogni uomo mi devo! Devi saltare più forte, devi saltare tipo così... E mi ne accruci a minare. Se non arrivare sopra, ti dagne un obiettivo. La pala non esiste, tipo. Vabbè, vedi che non c'è la pala. Puoi dare l'adrenalina a Rochelle, ma io non glielo do. Eh, ma cosa hai detto da qui, vai! Sì, non c'è. Vabbè, andiamo. Se me ne frego dell'obiettivo, l'ho fatto sull'Xbox. Eh, bocca, la... Me ne fatto gli dati all'Xbox, guarda. Vai, 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 vai! Chi c'è? 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 Giochiamo poi. Autoscontro! Subito! Ma hai... Aspettami tu. Non è un motivo per il tuo stesso. C'è il capo solo, non pare il capo solo. Andiamo a aiutarlo. No, non c'è già fatto. Sì, va come di chiapare la piante della sua vita. Sì, lo vedo. Chi c'è? Non aveva detto, orchi. No, senti a bacian' Aia, ai, ai, alger! Eh, no, chi è? he chi Kong? Chi è? Oddio! il bella no il bella no dove è ma andai alla troia orcoddio lasciami stare lasciami stare lasciami stare lasciami sto coso la città fuori non mi fai a te qua addosso cacciati i mezzi coglioni che stavo passando la città il cacciatore di qui ci sono io infatti l'ho chiappata con 30.000 colpi della faccia porca troia posso fare a marco chissi? allora non devi andare avanti da solo perché ti fottono seguici queste cose qua lante, smog, ti fottono allora vedete che c'è un ascello ma ne la buttano ho visto una cosa bellissima ok il tank siamo fottuti ok marco se vuoi pigliare il tank anche per me non sono bene ma non lo so eccolo qua eccolo qua aiuto aiuto accolta ahhh ahhh come? i messi coccano mi sono venuti ahhh mi sono detto un secondo quando si dice una cosa dai ragazzi lo tagliamo lo tagliamo lo tagliamo lo tagliamo lo tagliamo lo tagliamo per favore per favore un secondo che mi curo copitemi ok andiamo dai ma non mancate i o un altro hunter c'è vogliamo ma anche ti ho o la vediamo sul tetto, attenzione ATTENZIONE INZACHI! Qua c'è un boomer E' INZACHI! E' INZACHI! Ancora lui, il tetto ci sta, ci sta ok l'aric passa avanti bravo, la dindy ok ora quello che ho fuggito di visione io killo gli zombie una alla volta e' un momento il golo che si gira buono ok peggio peggio non se c'è cui ok ok ho carico carico il fucile a pompe il fucile di visione perchè potrebbe servire attenzione che qui arriva l'esercito e siamo fottili tutti c'e' la motosega la sopra no c'e' un bestia e' il bestia che appende sempre a lui ok il charger attenzione attenzione il jogger ok non c'è un meditore vabbè pronti dai 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 aiuto aiuto ahhh io ma fu abbiamo subito siamo subito fino a quando non si apre fino a quando non si apre siamo circondati farai mi chiamato come mondo ragazzo io con chi ha detto se vede bombe amore abusateli lo scende morte meno male ragazzi veramente bello bello oddio 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 io no io no per me è morto io lo so il titolo il titolo il titolo il titolo pietro on parco rar ahahah marco e' unico che puoi diventare salvo, vattene vattene marco salvati perchè qua siamo fottuti di me andate andate, me le fate di me ma cosa sai che almeno tu vattene al culo che c***o sei tu vai marco vai ti dicono che è un c***o di sogni, no marco fuggi, è vera te ne dici muoviti di scena davanti la porta, muoviti di scena davanti la porta muoviti di scena davanti la porta, muoviti di scena davanti la porta ma lascia la porta l'andrea, non ce la fai vattene quindi quella c***o di porta, chiudi la chiudi la porta ma sei bestia c'è il hunter, c'è il hunter, guardate che c'è il hunter c'è il hunter, chiudi quella c***o di porta chiudi quella porta che sei ma andai a dici vada muoviti andrea vuoi entrare oppure lo fai a po' un c***o di zombie alla porta come faccio la labo figliore mamma mia mi rompelo veramente no ora voglio chiedermi un saluto da zig zag e da il teo pottusa che qua diventa mi ha fatto schifo è un giro